Ciao a tutti ragazzi qui a What Do It Ho Simone Pacello ha una crisi d'identità Siamo finalmente oggi tornati in un nuovissimo video anche perché di vecchi video ne faccio più Oggi Fammi giusto il microfono Siamo tornati con un video nuovo, particolare, strano e che ho spudolatamente preso l'idea Da un altro canale YouTube che si chiama Ratorix che non posso pronunciare bene e fare finta che ci sia la R Ho visto questa cosa qui che è bellissima Dove praticamente è una prova a non ridere Sapete che tutte le prove a non ridere che ho fatto io, quelle da solo, ridevo tutto il tempo E diciamo le cose come stanno perché c'ho una riderella facile E ho visto il suo video e ho detto no c***o geniale Che è se rido finisce il video e dà senso così L'ho visto fare anche tipo CSI, XI, no CSI, XI Ero youtuber americano e faccio no c***o una figata Quindi io non dovrò ridere Se rido il video finisce Però precisiamo una cosa Una riderella tipo Oppure Tipo Vale, non vale come dice La risata è tipo 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 Cioè una risata, una risata e una risata Non tipo le ridarole tipo Quelli non valgono Perché sennò veramente finisce il primo video secondo me Sono molto teso Non so quanto possa durare questo video Perché il video che sto a prendere a vedere Non l'ho mai visto Ho messo un Try not to log A caso Che ci sono milioni e milioni di compilation Quindi non so minimamente che tipologia di video andrò a vedere Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace Se vorreste un secondo episodio Però vi giuro non so minimamente come andrà questo video Può durare anche 30 secondi Quindi non lo so Fatemelo sapere con un commento qui sotto Scrivendo tipo Si Awe, dai, continua questa serie Oppure no Awe, non continua questa serie E' importante Commentate, commentate, commentate Perché leggo davvero tutti i vostri commenti Lascio tantissimi like e tantissimi cuori Venitemi a seguire su tutti i social Cestino, risorse al computer, excel, powerpoint, pinball, prato fiorito Ma soprattutto ragazzi Ora non c'è giuramento Vi volete iscrivere a sto canale? Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Perché è gratis È gratis Awe, dov'è 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 dell'unico in Italia Ad offrire un servizio gratuito Gratuito di intrattenimento Dove lo trovate? In un altro In un altro Che se ride perde finisce il video Grazie, iscrivetevi al canale Sono molto teso Devo cercare di ridere tutto quanto Cioè, mi fa ridere solo l'idea di questo video Quindi, concentrazione Awe Perché se ridi il video finisce Ragazzi, cioè Il video finisce Non ci sarà nessun altro Cioè, io appena rido Fine, finito Cioè, finisce il video Sono molto teso ragazzi Partiamo Finchè so... Allora, dobbiamo capire che Le cadute non mi fanno tantissimo ridere Ecco, mettiamolo sincero Dio poi di merda dal tipo di battuta Di caduta? Perché di battuta? Di caduta? Che sto dicendo? Vabbè, qui però Cascano tutti Cascano tutti Questo non vale come risata Un accenno risata Non è una risata Che se rido, perdo eh Se rido, finisce il video Questo sono io nei confronti della vita Io ho comprato un nuovo televisore E ho fatto... No! 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 Dall'altro che razza di scarpe aveva il padre? Che scarpe sono? Noo, muore Ho di sicuro perduto... Oh c***o Porca, pu*****o La pignata? Ok Avete perso un uomo Avete perso un uomo La farfalla, che carina Ho capito che le farfalle Vivono al massimo un giorno Ma così è troppo Vuole fortuna pure a nascere farfalla Ma non ci credo che hanno ripreso sta scena Attento, non mi fiderei molto di farlo fare a tuo figlio Non mi fiderei molto Porca Io con la vita No, no, ecco, esatto Non mi sembra il caso Ma pure lei è caduta Questa è la classica professoressa Che dopo il sabato sera torna a casa Ma non ce la faccio domani andare a scuola I miei alunni hanno bisogno di me Meno male che ci arriva il casco, guarda Il padre è simpaticone lì sotto che Porca te la p***a, c'è il karma, ti sta bene No Questo è mio nonno Non far ridere Non far ridere Non far ridere Porca p***a Porca p***a Piano Piano Ma che razza di stanza è poi questa? Mamma Le cadute non fanno ridere Le cadute non fanno ridere Ma perché? All'altro è vestito lo stesso colore del trattore Piano Cosa c'era lì dentro? Alcol? Attento Mamma Peggiore padre dell'anno come premio Salta uno Difficilissimo Tenta Porca t***a Porca p***a Due in uno No 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 Tenta non mi sembra Ma cosa c***o volevi fare? Questo dove sta a buttare Che male c***o Oh Oh C***o La fine dello stuzzo ha fatto Che c'è? Si sente bene? Pia pia Ma pia no Guarda questo che c***o stai facendo Ma io sono dei Jenga giganti Ma poi l'aveva visto che stava cadendo L'ha visto che stava cascando tutto Perché c***o non si è mosso Oh Sembro io su GTA Piano Pia No Perché? Ma perché pensate che sia una buona idea? I gatti hanno È di plastica Il segno ce l'ha lasciato la dentina dentro Quelle Ok Pessimo giocatore Pessimo giocatore Il peggiore 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 Che gioco è questo? Piano Ma che c***o Gli amici Cos'è sto schifo Cos'è? Dove ti stai buttando? È lo stagno Bravo Bravo un c***o Piano Piano Cosa è successo? Cos'è? Cos'è successo? Non ho capito Non credo Nemmeno se mi dà la penda in considerazione È stato bene È stato bene Che succede? Il muro di buono Piano Piano Chi è stato? Chi è stato? Il papà che stava filmando Sorry Sorry Vi ha detto Oddio Ok Oh why? Cos'è? Oddio che schifo Che schifo Che schifo Ma i trilli vola Vola anche per noi No Non lì Non lì Trilli No Perché c'erano degli applausi? Perché? 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 No signora No Signora Che c***o sta facendo Anche lei Ma si dia una regolare Ma cos'era? Cos'ha appena fatto? È madre Lo sa Attento Attento Ma che vedi? Che c***o Che stai facendo? Che casino Che casino Che casino Sto accadendo Oh 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 Oh